Prenderà avvio la prossima settimana il concorso per reclutare 2000 direttori per i servizi generali e amministrativi, ovvero i DSGA. Le domande presentate sono state 100.000 e ciò significa che a conti fatti ce la farà solo un concorrente su 50. Il programma è molto vasto, i candidati dovranno rispondere su domande di diritto civile, diritto penale, legislazione scolastica, diritto del lavoro, contabilità pubblica e molto altro ancora. Si inizierà come è ormai consuetudine con la prova preselettiva. I possibili 100 quesiti sono contenuti in una banca dati di 4.000 disponibile nel sito del Ministero e sulla quale si sono già aperte le polemiche. Ci sono infatti quesiti che nulla hanno a che vedere con le competenze professionali tipiche di un DSGA. A che serve per esempio sapere quale sia la durata massima dei messaggi di pubblica utilità trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico radio televisivo secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 150 del 2000 o quale sia la durata massima delle concessioni rilasciate per l'esercizio di servizi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 481 del 1995 istitutiva dell'autorità per l'energia elettrica, il gas, il sistema idrico e le telecomunicazioni e c'è da credere che mano a mano che il concorso andrà avanti problemi e polemiche non potranno che aumentare. Basta vedere quello che sta accadendo con il concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Proprio oggi, lunedì 3 giugno, il settimanale L'Espresso pubblica un'ampia inchiesta che evidenzia non solo errori procedurali ma addirittura situazioni che potrebbero avere rilevanza penale inchiesta che peraltro si basa in larga misura su un esposto firmato da 271 candidati reso noto già dalla nostra testata a metà aprile. L'errore più macroscopico riguarda il fatto che in Sardegna la prova scritta si è svolta in una data diversa rispetto alle altre regioni mentre il bando prevedeva esplicitamente una data unica per tutto il territorio nazionale. La magistratura amministrativa e quella ordinaria si pronunceranno su tutta la vicenda ma resta il fatto che ormai i concorsi pubblici sono sempre più a rischio per molteplici motivi. Probabilmente bisognerà rivedere al più presto regole e procedure ma per il momento il governo sta parlando solamente della necessità di richiedere la laurea a tutti i partecipanti ad un concorso statale. Francamente ci sembra davvero poco per riformare seriamente le modalità di reclutamento dei dipendenti pubblici. Il tema è certamente di largo interesse, continueremo ad occuparcene, seguiteci su questo canale, mandateci i vostri commenti e soprattutto seguiteci sul nostro portale grazie a tutti i nostri spettatori